Siamo qui a Castelnuovo Monti e io sono il fratello di Zapaterra Roberto, attualmente detenuto in un carcere della Grecia. Roberto Zapaterra è incarcerato a Danfisse, detenuto a Danfisse in un carcere di sicurezza, vive una situazione estremamente di disagio per il fatto che comunque è trattato alla stregua di criminali, assassini e spacciatori, vive nello sporco praticamente perché queste carceri comunque sono tenute in maniera quasi da terzo mondo, si può definire. Per il primo periodo della detenzione è dovuto dormire per terra, il mangiare è scarso e la situazione dentro è veramente umiliante per una persona comunque. Noi facciamo appello un po' a tutte le istituzioni italiane perché almeno diano un occhio di riguardo a questa vicenda che comunque è un cittadino italiano che ha sempre fatto volontariato, è incensurato completamente e secondo noi merita almeno un minimo di attenzione. sono qui insieme al signor sindaco Gianluca Marconi. Cosa ne pensa nel complesso di questa situazione? Una situazione come questa ha davvero per noi almeno nella nostra idea di giustizia ha veramente dell'incredibile. Dal 24 febbraio se ricordo bene un cittadino del mio comune viene tenuto in carcere in Grecia, Grecia che è un paese ovviamente che fa parte della comunità europea, senza contestazioni significative sulla sua condotta, se non questa accusa di sospetto, di tentate, insomma ecco esportazione illegale di reperti archeologici. Parliamo di 36 cocci e questa durezza insomma anche del trattamento, questa difficoltà insomma a garantire anche i diritti della persona in queste case, in questo sistema davvero ci lasciano molto perplessi. abbiamo fin dall'inizio seguito questa vicenda partecipando anche a diversi momenti istituzionali come la conferenza stampa fatta a Bologna alcuni giorni dopo il suo arresto con l'onorevole Raisi che è il capogruppo in comune di AN a Bologna, con il consigliere Gattuso, con l'intervento dell'interessamento del senatore Giovanelli e del ministro Fini. Veramente tutto ciò non è servito perlomeno ad oggi a nulla e questa situazione ha davvero dell'incredibile, perché poi succede in un paese ripeto qui vicino a noi che fa parte della nostra Europa e che vanta nella propria storia una cultura di democrazia e di giustizia insomma come la Grecia veramente ci lascia molto 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 perplessi. Che cosa l'ha spinta a scrivere direttamente al presidente Ciampi? Noi abbiamo fatto diversi interventi a favore di Roberto proprio perché conosciamo Roberto, Roberto è un operatore sanitario del nostro ospedale, dell'ospedale Sant'Anna, dell'ospedale di zona, abbiamo con lui anche avuto momenti insomma importanti di attività per quanto riguarda il settore dei disabili e ha partecipato a iniziative dell'amministrazione comunale. Ma lo conosciamo ovviamente, ripeto di fatto sono anche medico, un medico di questo ospedale, lo conosciamo come un lavoratore attento, preciso, generoso e quindi appena abbiamo avuto questa notizia che dicevo prima ci sono state veramente così un po' esterefatti, abbiamo ritenuto come situazione anche di prendere delle iniziative. Una, la ricordavo prima, era quella fatta a Bologna alcuni giorni dopo il suo arresto, fra l'altro un intervento, un'iniziativa trasversale fatta da esponenti del centro-destra, da esponenti del centro-sinistra, io sono della Margherita, il senatore giovanile dei DS, l'onorevole Raisi, il consigliere Gattuso, sono di N. Quindi davvero, questo lo stolineo anche se fosse necessario, un intervento anche locale, ecco trasversale perché tutti conosciamo queste qualità di Roberto. Quindi proprio per questo ho ritenuto fosse importante coinvolgere oltre il Ministero degli Esteri il Presidente Ciampi. Io ho scritto una lettera, una lettera in cui mettevo in evidenza le qualità di Roberto e la nostra difficoltà a credere alle accuse che venissero mosse fossero davvero reali, ma soprattutto anche denunciando in questa lettera la situazione in cui è tenuto Roberto, cioè in carcere e in che tipo di carcere. Voglio aggiungere che oltre a Ciampi noi abbiamo come Consiglio Comunale inviato un ordine del giorno, approvato l'annimità, quindi tutte le forze politiche che sono presenti in Consiglio, quest'ordine del giorno è stato inviato non soltanto di nuovo al Presidente Ciampi, ma anche all'Ambasciata Italiana in Grecia, al Consolato Italiano in Grecia, al Ministro degli Esteri e al Ministro di Grata Giustizia del nostro Paese. Brevemente, molto sintetico ma significativo, il Consiglio Comunale di Castamone Monti a sedito dell'arresto del concittadino Roberto Zappaterra, avvenuto in una città greca di Gumenizia il 24 febbraio, motivato dal fatto di essere in possesso 36 frammenti di materiale di interesse archeologico e della successiva detenzione in carcere, peraltro ancora in corso ad odierna, testimonia le qualità di Roberto, persona stimate, ben voluta, dedita a disinteressata attività di volontariato verso i disabili, ritiene che la durata e le modalità della carcerazione preventiva siano in contrasto con i diritti fondamentali della persona, chiede che venga considerata con la dovuta attenzione l'integrità morale di una persona che vive esclusivamente del proprio lavoro, esercitato verso l'ospedale pubblico della nostra cittadina, aspica fortemente che a brevissimo termine la vicenda possa concludersi con la sua scacerazione e il ritorno tra i suoi cari in Italia. E questo è l'ultimo di regione che abbiamo approvato, che ovviamente è stato condiviso largamente a tutti i consiglieri e le forze politiche presenti in Consiglio. Che cosa effettivamente hanno fatto le istituzioni italiane fino in questo momento? Non ho purtroppo ad oggi notizia di interventi diretti del Ministero, insomma ecco della Presidenza della Repubblica. Io proprio alcuni giorni fa, al Consiglio di una settimana fa, nell'inviare questo documento di nuovo al Presidente Ciampi ho chiesto anche ovviamente una risposta, insomma su quello che la Presidenza della Repubblica può fare. Dagli amici, insomma ecco di Roberto di Castelnuovo, insomma ecco sentiamo che il Consolato si sta muovendo, che il Consul si sta muovendo e speriamo davvero che con un'ulteriore azione del Comune di Castelnuovo e Monte, le istituzioni appunto locali nei confronti del Ministro degli Estri, Ministro del Punto di Cazzo di Giustizia e del Presidente della Repubblica, qualcosa insomma si muova. Ad oggi purtroppo, lo dico anche un po' così, non demoralizzato ma è una constatazione un po' triste, devo dire che non ho visto insomma ecco un intervento forte e diretto da parte delle nostre istituzioni. Capisco le difficoltà a confrontarsi con un altro Paese e quindi ad essere accusati eventualmente di entromettersi negli affari interni di un Paese, ma qui siamo di fronte a un caso che va al di là dei confini della Grecia o dell'Italia, al di là ripeto che siamo tutti in Europa, ma davvero è una vicenda che ha dell'incredibile da un punto di vista non soltanto giudiziario ma soprattutto umano. Che cosa si potrebbe ancora eventualmente fare? Io penso che come istituzioni si può fare ancora come dicevo prima un intervento sulle nostre autorità nazionali perché intervengono presso le competenze di autorità greche. Poi direi eventuali manifestazioni insomma ecco davanti all'ambasciata greca a Roma penso che possono avere se non si sblocca la situazione anche un significato e a queste manifestazioni partecipare proprio come istituzione con la fascia tricolore del sindaco di Cassano Monti e mi auguro anche di altri enti per dimostrare davvero che se un Paese, una comunità, un sindaco che le rappresenti insomma ecco si muove per dimostrare, per chiedere che venga chiarito e che venga fatta giustizia in un certo senso nei confronti del proprio cittadino insomma davvero si debba prestare attenzione a questo problema. Come sindaco e come politico effettivamente cosa ne pensa delle istituzioni greche, delle sue diciamo leggi, organi interni comunque? Ovviamente come istituzione, come sindaco il rispetto per altre istituzioni di altri Paesi è doveroso. Certo insomma guardando anche purtroppo quello che succede insomma nel nostro Paese e qui non voglio dilungarmi in giudizio di carattere ecco politico sulla giustizia del nostro Paese ma vedendo anche situazioni molto difficili ecco nelle nostre carceri, vedendo anche condanne insomma esemplari ed altre molto discutibili su casi che nel confronto di quello di Roberto non sono nulla, ritengo che la giustizia greca paragoni insomma questa passione per siamo così le immersioni subacquee ed eventualmente l'ingenuità, perché l'ingenuità può essere sicuramente stata di un cittadino che raccoglie qualche frammento paragonata a crimini ben più gravi che veramente non sono assolutamente paragonabili. Quindi ritengo che la giustizia greca ecco rispetto all'inizio della sua civiltà, prima della civiltà romana, si è rimasta tutt'oggi un po' indietro. Secondo lei ha influito il periodo di campagna elettorale su questa vicenda? Non ha influito da un punto di vista ovviamente come possiamo dire umano e giudiziario, cioè nel senso che come dicevo all'inizio c'è stato un intervento trasversale. Ha influito, questo penso di sì, mi scordavo di dirlo prima, nel diminuire insomma l'attenzione delle istituzioni italiane nei confronti di questo caso, perché certamente dal 24 febbraio ad oggi sappiamo benissimo che questa pesantissima, intensa campagna elettorale evidentemente ha concentrato tutte le istituzioni, comprese quelle governative, locali, ecco su la vicenda elettorale, quindi forse ha distolto un po' l'attenzione, in questo senso sì, ma le elezioni le abbiamo fatte, abbiamo, sembra una minima maggioranza, sono concluse, smettiamo di fare campagna elettorale e occupiamoci anche di questi problemi concreti dei nostri cittadini, insomma a cui siamo chiamati da una risposta. Io sono un'infermiera che lavora nel suo stesso ospedale e lo conosco tramite lavoro, diciamo, l'ho conosciuto sul lavoro. Dire cosa penso sarebbe un po' lunghino, comunque diciamo che stringatamente penso che sia una brava persona e penso che si sia trovato in una brutta situazione perché è un pochino forse quello che io dico uno spirito libero e quindi come quelle persone lì, come quel genere di persone lì si muovono un po' fuori dagli schemi e possono anche rischiare di trovarsi, diciamo sì, in situazioni magari insolite o pesanti. Credo anche però che meriti che sia difeso e che meriti un'attenzione da parte di tutti quanti perché non deve assolutamente essere lasciato solo proprio quando ne ha bisogno. Cioè le persone libere effettivamente tendono a essere un pochino sole, di solito. è giusto che lo siano in certi momenti come è giusto che invece vengano tutelate come tutti i cittadini quando è il momento perché hanno diritto all'attenzione di tutti quanti esattamente come le persone catalogate come regolari, tra virgolette. Credo che si sia trovato in questa situazione brutta per un caso. Io sono convintissima di questo. E come sono convinta che comunque non si possa assolutamente trattarlo o considerarlo alla stregua di qualsiasi delinquente, tra virgolette, o assassino, o chiunque possa aver fatto cose, diciamo, cattive. Perché sì, perché non penso che sia una persona che possa fare delle cose cattive. Se ha fatto un errore, sicuramente non è un errore tale da dover essere condannato in questo modo, da dover essere punito in questo modo, sicuramente. Mi chiamo Barazzo Giovanni, sono collega di Roberto. L'ho aiutato nell'inserimento anche nel lavoro a Castelnuovo. Quindi ho proprio lavorato fianco a fianco con lui, continuo a lavorare ancora, spero di continuare ancora a lavorare con Roberto. Roberto l'ho conosciuto, è una persona squisita, un ragazzo che si è sempre dato da fare. Capisco il suo modo di vivere perché anch'io sono stato un camperista, lui vive dentro in un camper, quindi abbiamo parlato anche molto di queste cose, ci siamo confrontati su queste idee. Prima di partire per la Grecia me l'ha fatto vedere questo nuovo camper, me l'ha illustrato, mi ha fatto vedere tutte le cose che ha fatto, era carico, molto carico, gli piaceva, era una cosa fondamentale per lui. E' una persona tranquilla, senza nessun problema, forse un po' schivo nelle sue cose, gli piace stare un po' in disparte tante volte, non vuole entrare dentro dei grossi problemi. Mi ha stupito un po' tutta questa storia che è successa, quando l'hanno carcerato, quando la Silvia ce l'ha comunicato è stato come un macigno che è caduto, insomma sono rimasto un po' di stucco. Più che altro anche per il comportamento della Grecia, dei greci, della giustizia greca. Noi italiani non siamo abituati a questo tipo di cose, noi abbiamo degli assassini che girano a piede libero, c'è della gente che non sta in galera neanche a uccidere delle persone. Qui per dei semplici cocci, vasi di uno che aveva la passione, che ha trovato queste cose, che forse l'ha fatto anche ingenuamente, ha pensato di portarsi a casa qualche ricordo, insomma, trovarsi in questa situazione, poi trattato come trattato, da quello che ci dice la Silvia, da quello che sentiamo anche dai giornali, quello che ci arriva, insomma, è trattato peggio di un delinquente, che in Italia proprio una cosa del genere non ce l'immaginiamo, quindi è una cosa che dispiace, dispiace tantissimo anche per Roberto, perché conoscendo anche il suo carattere e anche un po' la sua storia che mi ha raccontato indietro, su tutti i suoi problemi, è una cosa che lo può portare anche a, diciamo, un po' la sua depressione, tutte queste cose, è una cosa che non fa piacere. Io spero e penso che la cosa si possa risolvere anche a breve termine, come ha detto il sindaco prima, anche parlare di arrivare di fronte all'ambasciata della Grecia-Roma, è una cosa che si può fare, se può servire a gittare le acque, cercare di tirarlo fuori, è una cosa che possiamo e dobbiamo farlo tutti quanti, anche per tirarlo fuori da questa brutta situazione, insomma. Penso che ormai se i greci dovevano fargli pagare qualcosa, penso che ormai sia arrivato anche il momento di tirare le somme, cioè lui quello che doveva pagare ormai l'ha già pagato, insomma. Lasciamolo andare e speriamo proprio che ritorni anche da noi perché ne abbiamo bisogno in tutti i sistemi, anche noi, per lavorare. E lui soprattutto per riprendere la sua vita tranquilla e quella che aveva. Mi chiamo Silvia Dalla Porta, sono collega di Roberto e compagna. In questi anni abbiamo condiviso tante cose positive, tanti viaggi, tante esperienze nel campo del volontariato, abbiamo fatto il corso insieme per insegnare subacquea ai ragazzi disabili e abbiamo avuto la fortuna di riuscire a portare sott'acqua un nostro amico che abita qua nel nostro paese, che ha avuto un incidente in montagna e adesso è costretto su una carrozzina. E questo per noi è stato un'esperienza importantissima. E voglio parlare di Roberto in senso positivo proprio per tutte le cose che abbiamo fatti insieme e anche per il lavoro che portiamo avanti insieme. I viaggi che abbiamo fatto sono stati tutti viaggi che si intrecciavano con le nostre passioni, con la fotografia, con la passione per il mare che era soprattutto sua, la passione per la montagna che è soprattutto mia. Abbiamo girato in Europa, abbiamo fatto cose che abbiamo cercato anche di fare vedere agli altri con un sito sul computer, abbiamo portato le nostre foto, le nostre cose ai colleghi, Lara che è qua con noi, le foto, insomma, che sono proprio le cose che distinguevano Roberto, cioè proprio la sua particolarità sta nelle sue passioni e nel modo in cui porta avanti le sue passioni. La passione per il camper, cioè per lui, avere il camper non era solamente comprare un camper e tenerselo così com'è, cioè la sua passione era lavorarci sopra, fare delle modifiche, coinvolgere anche gli amici nelle cose che stava facendo. e non so, l'attrezzatura subacquea che magari una persona comune compra in un negozio e se la porta a casa e la tiene così con me, per lui invece era l'occasione per modificarla. Il fatto di aver insegnato a un ragazzo con delle difficoltà la subacquea e anche quella è stata un'occasione per inventare nuove attrezzature, cose che possono servire a questo ragazzo ad avvicinarsi all'acqua, a superare la difficoltà dell'acqua. Quindi la sfida di Roberto nella vita è quella proprio di cercare di entrare nelle passioni che ha e cercare di non rendere comune le cose, cioè di rendere le cose tutte particolari, cercare di entrare anche lui nelle cose che sta facendo, di mettere proprio un tocco personale alle cose che fa. E questa diciamo è tutta la parte positiva che io ho vissuto con lui in questi cinque anni. Da quel 23 di febbraio invece è iniziata tutta una serie di cose negative, una specie di spirale che ci ha portato a vivere questi due mesi in un modo diciamo terribile per lui. Cioè il fatto di essere fermato col suo camper, il fatto che gli hanno trovato questi cocci sul camper stesso e ha iniziato questa avventura terribile in Grecia. La Grecia che per lui era un posto dove poter passare l'inverno con questi panorami stupendi, era un modo per portare a casa delle belle foto, per vivere un'esperienza positiva, alla fine si è dimostrata come un'esperienza estremamente negativa. Adesso sta vivendo in questa prigione molto dura dove comunque nella sua positività sta cercando anche di sopravvivere, di legare anche con le persone che sono lì dentro, con i ragazzi albanesi, con i ragazzi greci, cerca di parlare, di discutere per quello che può fare una persona che parla una lingua diversa. Ed è l'unico modo che lui ha per sopravvivere in questa situazione tremenda. Quella di trovare comunque un modo per poter sopravvivere alla giornata, cercando di mettere delle cose positive in questa cosa tremenda. Io sono Gabriele Colombani, sono un amico di Roberto Zappaterra, è un'amicizia che è nata per il suo impegno verso una proposta che mi aveva fatto per la subacquea per i disabili e si è proposto di insegnarmi a andare sott'acqua e così è stato. Solo che di lì è nato, oltre all'impegno sportivo, è nata anche un'amicizia che ormai è un po' di tempo che va avanti. Roberto io l'ho visto anni fa, prima che io mi incidentassi, non lo conoscevo. Lo vedevo passare di qua a piedi una persona con in testa la sua bandana, perennemente, lo sguardo un po' allampanato perché è fatto un po' così. Particolare, sicuramente particolare. Poi ero venuto a sapere che viveva in un camper parcheggiato qua vicino a casa mia e niente, è morta lì. Poi sono tornato dalla clinica dove sono stato ricoverato perché mi sono rotto la schiena e mi sono buttato subito sullo sport. Poi mia cognata mi ha fatto sapere che questo ragazzo lavorava all'ospedale di Castelnuovo Monti e aveva la specializzazione di istruttore subacqueo per disabili e si era proposto, se avevo voglia, di provare ad andare sott'acqua. Allora io sono arrivato con la mia handbike vicino a casa della Silvia ho trovato Zappaterra e ci siamo subito intesi perché gli ho detto ascolta, mi hanno detto che sei istruttore subacqueo per disabili, è vero? Fa sì, ma sono istruttore da poco e sto cercando una cavia. Ho detto bene, guarda, la cavia l'hai trovata. Allora siamo partiti così.